Bentornati su Beansapiens, continuiamo il dialogo tra me e Gerandrea Giacoma con Gianluca Bocchi, questo è il terzo incontro, stiamo affrontando il tema di come mai culturalmente in occidente potremmo dire che ci troviamo in un'eterna tarda modernità, abbiamo visto il primo incontro l'inizio della modernità 500 anni fa, nell'ultimo incontro abbiamo intravisto un po' i temi avvicinandoci a 700-800 e adesso ci stiamo avvicinando al secolo scorso. Passo la parola a Gianluca. Allora, io oggi vorrei per fare un link tra quello che abbiamo già detto e poi diciamo gli sviluppi dell'ultimo secolo e le problematiche aperte, però soffermarvi su una cosa che avevamo già introdotto, cioè la consapevolezza del non sapere di non sapere, perché questa secondo me è una delle caratteristiche che più ci dovrebbe distaccare dai limiti della storia dell'età moderna e che dovrebbe essere una competenza interna a tantissimi ambiti, compreso anche chi si occupa poi del pensiero della complessità e dei sistemi complessi. Perché l'avevamo anticipato l'altra volta, che la scienza in maniera abbastanza imprevedibile, non è così scontata, al tempo della rivoluzione industriale si pone come la cultura dominante dell'Occidente che cerca di esercitare anche una funzione di unificazione fra i vari saperi umani. E la cosa è molto ambivalente, ci sono aspetti positivi, aspetti negativi e poi si possono approfondire. Qual è il grosso problema? Che la scienza si pone come un'impresa, un po' in contraddizione con quello che erano state le sue radici, come un'impresa matura e conservatrice. Anche se, voglio dire, questa è un'ideologia che poi confligge anche con la pratica dei singoli scienziati, che in realtà rimane sempre molto creativa. Quindi nell'Ottocento ci sono sviluppi molto creativi degli scienziati, ma qualche volta sono anche sviluppi di personaggi un po' eccentrici, che vanno anche contro l'ideologia. E qui c'è un tema da sottolineare che nell'impresa scientifica, come in tante imprese umane, la pratica e l'ideologia non sempre vanno d'accordo e meno male che non vanno d'accordo. Allora, quello che però si consolida, ripeto, parzialmente come ideologia, è l'ideologia di una scienza matura su cui ormai i pilastri qualitativi erano stati edificati, su concetti che poi alla fine sono anche popolari anche oggi, il determinismo e il riduzionismo. Adesso non andiamo in questi dettagli e quindi si trattava solo di fare estensioni di tipo quantitativo. Quindi c'è tutta una tematica addirittura che la scienza ha una funzione di grande securizzazione e poi con la promessa che grazie a questi pilastri già identificati, si potrà far progredire le modalità di abitazione umana del pianeta. Non è un legame così diretto, però tra questa idea di una scienza matura e l'idea di progresso lineare e irreversibile si crea una certa unità di intenti, diciamo così. Allora, il tema è molto grosso, ma io volevo riprendere quello che ho detto l'altra volta, proprio vedendo nei particolari, cioè che uno dei maggiori scienziati del tempo, Pierre-Simon de Laplace, che era anche astronomo, quindi era interno al suo campo, quando deve parlare del futuro della sua disciplina è quasi triste melanconico perché dice tutto sommato le leggi del moto, la visione deterministica del cosmo, noi l'abbiamo già individuata, il cosmo è una grande macchina e in qualche modo Laplace ha anche delle visioni molto deterministiche del cosmo, su questo non insisteremo, ora quindi si tratterà soltanto di conoscere meglio i dettagli. Perché insisto su questa cosa? Perché noi a distanza di due secoli ci rendiamo conto invece quanto l'astronomia e la cosmologia è esplosa e ci sono state rivoluzioni permanenti, no? Eh già. Se non altro un fatto che è banale ma nemmeno tanto, abbiamo scoperto che la nostra galassia non è unica come si pensava nell'Ottocento, ma ci sono miliardi di galassie nel nostro universo, poi non è detto che il nostro universo sia unico, poi ci sono oggetti perturbanti come i buchi neri, poi abbiamo scoperto l'evoluzione cosmica, no? E abbiamo scoperto che esiste una misteriosa materia oscura e oppure un'ancora più misteriosa energia oscura, più chi ne ha più ne metta, cioè tutta una serie di rivoluzioni di pensiero che hanno stimolato la nostra immaginazione inconcepibile. Ora il povero Laplace, noi non possiamo dare il ruolo della profezia, no? Però la cosa interessante è che in questa ideologia non c'è spazio per conoscenze impreviste, che sfuggono dal quadro che hai fatto nel momento presente, no? Per quello voglio dire che una volta che nell'Ottocento si allentano in molti casi, come dire, sono considerati obsoleti i presupposti teologici. In questo senso è giustissimo parlare dell'Ottocento come il secolo della morte di Dio alla Nietzsche, anche se Nietzsche non è rinunciato. Però di fatto c'è un tentativo di autofondare i saperi umani su una sorta di, non dico divinizzazione, ma di prendere il soggetto umano stesso come fondante. Questo tentativo fallisce completamente, no? Perché se per soggetto umano fondante intendiamo l'immaginazione storica di un dato periodo, è chiaro che questa immaginazione storica di un dato periodo è assolutamente contingente e non può immaginare gli sviluppi successivi, no? Allora ripeto, qui è inutile tornare a Socrate, insomma, ma avrebbe anche un senso, no? Che la competenza del non sapere di non sapere intanto è adeguata con quello che noi sappiamo rispetto alla storia delle idee, no? Perché le grandi rivoluzioni non sono solo di tipo quantitativo, ma sono di tipo qualitativo. Scopriamo delle altre pieghe della realtà e delle altre pieghe del nostro rapporto con la realtà, no? Ma sicuramente poi questa attitudine, poi ci torneremo su questo, è anche un'attitudine pratica molto utile nella, legata anche al mondo, al micromondo delle nostre azioni, no? Poi dovremmo dedicare anche qualche riflessione al proposito. Allora io questo tema, siccome hai detto parliamo anche del ventesimo secolo, lo uso come tema introduttivo al ventesimo secolo, perché se lo leggiamo in questo senso, la scienza e anche la cultura umana del ventesimo secolo è stata una presa di coscienza, prima lenta, poi improvvisa e poi sempre più consapevole dell'importanza del non sapere di non sapere. E oggi, no? Tornando al tema che su cui siamo partiti, no? Il problema della tarda modernità. Qual è la questione? Che il fronte avanzato delle conoscenze e delle esperienze umane ci mette in ogni momento nell'esperienza di questo non sapere di non sapere, no? E quindi mette in primo piano la nostra reazione alla sorpresa e allo spiazzamento, no? Noi cerchiamo in qualche modo di ricostruire le nostre visioni, no? Rispetto ad eventi perturbanti. Dall'altra parte l'ideologia, diciamo, invece tutta bella compatta, chiamiamola del progresso lineare, è ancora sottostante, no? A molti modelli di divulgazione scientifica e di azione pratica, no? E questo è un conflitto, no? Su cui dovremmo parlare. Allora, però, per arrivare al Novecento, io torno a parlare di un altro scienziato che è stato uno dei grandi fisici dell'Ottocento insieme a qualche decennio dopo, è inglese e non francese, insieme a Pierre-Simon de Laplace, cioè William Thompson, che è più noto col nome di Lord Kelvin, no? Che era, diciamo, il grande grande prestigio, no? Della scienza britannica, no? Perché anche lui è famoso per avere in qualche modo fondato le sue visioni sull'idea che lo stato attuale della conoscenza era quasi definitivo e quindi bisogna adeguarsi, no? A questa sorta di stato quasi stabile della conoscenza. Allora, per il nostro discorso Lord Kelvin è importante per due questioni che sono legate. La prima questione è un dibattito che lui ha con Darwin, perché a un certo punto lui, sulla base della fisica nota al tempo, cerca di stabilire dei limiti precisi dell'età della Terra e anche del sistema solare, no? Che per adesso lui cambia idea da tanti punti di vista, prima è più liberale, diciamo così, poi è più rigido e sulla base comunque della sua conoscenza, lui dice che più o meno la Terra, adesso le cifre variano, ma non potrebbe avere più di 40 milioni di anni. E vabbè, tutti gli hanno detto benissimo, no? Benissimo, questa idea è perfetta, no? La fisica ci dice questo, no? Dove il problema non è che adesso noi sappiamo che le scale temporali sono molto più dilattate, ma che al momento c'è stata una sola persona che l'ha conquistato, che l'ha messo in discussione ed era Charles Darwin, perché dice 40 milioni di anni non sono sufficienti per la mia idea di evoluzione. Darwin tra le tante cose per cui è molto importante è che lui aveva un'idea molto dilattata della storia umana, anche se non aveva, della storia della Terra, della storia del vivente, anche se non aveva idee precise, allora non potevi fare le cronologie. Ma lui diceva, la mia evoluzione, l'evoluzione come vedo io, richiede molto, molto più tempo di quello di Kelfin. Allora, Darwin restò quasi solo, perché anche le persone che lo stimavano diceva, ma Kelfin 40 milioni di anni è già tanto per l'evoluzione. Darwin diceva, no, non è tanto. Allora è qui che il conflitto è paradigmatico, perché Kelfin dice, la fisica dice questo, quindi la fisica pone un vincolo superiore al quadro dell'evoluzione. Darwin dice, no, perché è possibile che ci siano altri elementi, in questo caso altre forme di energia, perché Kelvin diceva, non può essere più di 40 milioni d'anni, perché sennò la Terra si sarebbe completamente raffreddata. Darwin diceva, che ne sappiamo noi, ci possono essere altre forme di energia che allargano il quadro temporale. E aveva ragione Darwin, perché poi è stata scoperta la radioattività e noi sappiamo che una delle fonti di energia che tiene la Terra, diciamo, calda, è la radioattività, dove non interessa in questa sede i dettagli, ma interessa sapere che ci sono due modi di pensare il futuro conflittuali. Kelfin dice che il futuro in qualche modo è chiuso, quello che noi abbiamo costruito è il quadro per vedere il mondo, quindi bisogna adeguarsi a questo quadro relativamente statico. Darwin dice, no, cioè non è che lo dice, ma lo pratica, dice, guardate che ci sono delle possibilità di allargare il quadro, ci sono tante cose che noi adesso non possiamo sapere, no? Perché Darwin non aveva la minima idea che poi sarebbe stata la radioattività risolvere la questione, no? Però in qualche modo prevedeva il fatto che ci sarebbero stati dei cambiamenti di tipo qualitativo nel pensiero, no? Quindi perché insisto su questo? Perché nell'Ottocento si crea, questo è un conflitto paradigmatico, tra due modi di pensare il futuro della scienza e della conoscenza, no? Allora torniamo a Lord Kelvin, perché lui quando era molto anziano, no? Era prestigioso, appunto era diventato Lord e fa una famosa conferenza dicendo, ma guardate, ormai la fisica è arrivata quasi al punto di avere, come dire, compreso praticamente la totalità dei fenomeni fisici. Ci sono soltanto due nubi che in qualche modo, ho fiducia, verranno, come dire, affrontate e risolte. Peccato che queste due nubi sono un ordine di problemi, due ordini di problemi, che poi porteranno nel giro di pochissimi anni a quella breccia che arriverà alla rivoluzione di Einstein relativistica e alla rivoluzione dei quanti, no? Per cui le nubi, che per Kelvin erano solo delle piccole increspature, diventano invece gli elementi del mondo nuovo, no? Quindi l'ambivalenza, no? Di quelle che noi chiamiamo le anomalie. Perché? Mentre l'attitudine, diciamo, normativa, che non è solo dei secoli scorsi, capita ancora adesso, cerca di trascurare le anomalie, di metterle fra parentesi o magari di lasciarle lì con la speranza che vengano conquistate dal paradigma dominante, invece a partire dall'inizio del ventesimo secolo abbiamo scoperto che le anomalie sono e sono anche state in passato il momento rivoluzionario che fondamentalmente trasforma il nostro modo di vedere la realtà e forse lo allarga, dico forse, no? Perché lì c'è tutto un dibattito se le visioni del mondo sono incommensurabili o se c'è qualcosa che rimane e la nostra idea di realtà, no? Alla fine viene allargata. Io credo che nel ventesimo secolo ci sia stato un grande allargamento, una grande diversificazione della nostra idea della realtà. Quindi l'anomalia passa da elemento diciamo scomodo alla chiave per sviluppare la conoscenza anche in tipo qualitativo e quindi emerge anche un'idea chiamiamola rivoluzionaria della conoscenza dopodiché, no? Alcuni tendono a sistemare la rivoluzione solo in certe fasi storiche ma forse noi dobbiamo parlare anche di una rivoluzione permanente, no? Perché il ruolo delle anomalie e il ruolo delle cose che non tornano rispetto al nostro sapere sta diventando ed è diventato onnipervasivo e ancora oggi qualifica la nostra conoscenza. Allora, molto interessante. Vorrei dire due cose. Una è una riflessione, la seconda è una domanda che ti rivolgerò. Allora, la prima riflessione, continuo a questo fil rouge dalla mia prospettiva più introspettiva, più psicologica, di questa costanza della difficoltà a volte per fattori esogeni. Tu in certi frangenti hai parlato di periodi di guerra, di caos, di malattie, di problemi climatici quindi proprio di una difficoltà dell'esistere concreto ed esistenziale dell'uomo ma anche di una predisposizione di una grossa fetta della popolazione endogena cioè quindi come struttura della psiche umana di necessità in qualche modo di fronteggiare e questo è insito nella biologia in certa dose di entropia, di caoticità anche se poi il caos crea anche e nel contempo una difficoltà proprio di stare con quello che tu accennavi quindi l'imprevisto, l'incerto, l'ignoto, il dubbio, l'anomalia che mi fa venire in mente diverse strutture di personalità diverse difficoltà psicologiche che magari poi nei prossimi incontri affronteremo un pochino di più è un po' come se ci fosse sempre sullo sfondo questo nostro modo di funzionare che non viene mai portato a consapevolezza e l'unica cosa che riusciamo a fare è attaccarci a delle strutture che poi si sclerotizzano anche teoriche vedi questa ennesima interpretazione rigida perché abbiamo più un bisogno viscerale emotivo di certezza che di verità questa è un po' una prima riflessione la domanda invece era questa non so se anticipo troppo i tempi dimmelo tu ma se vediamo che la scienza può essere anche espressione di un'ideologia di fondo consapevole inconsapevole che siano non è questo sapere puro possiamo dire che l'approccio di Popper epistemologico alla scienza che dice guardate quello che possiamo fare più saggiamente, più cautamente più con un esame di realtà che tiene conto anche del non sapere è costruire delle ipotesi dei costrutti falsificabili non dare l'imprimatur di verità definitiva ecco l'approccio di Popper lo vedi come come dire una declinazione concreta nei modelli epistemologici scientifici di una visione della scienza più saggia lo vedi in questa direzione qua? allora l'approccio di Popper in effetti è una cosa sono contento che intervieni su questo perché si può considerare l'approccio di Popper come una presa di coscienza delle novità della scienza novecentesca quindi in questo senso l'approccio di Popper poi va di pari passo anche con quello che diceva William James che diceva io vado in cerca dei corvi bianchi dice la scienza non è solo dire tutti i corvi sono neri sì però siccome le leggi alla fine sono statistiche poi la cosa interessante è che William James parlava dell'esperienza umana che non è l'esperienza fisica no? per oggi anche i fisici sono d'accordo che sì ci sono delle regolarità ci sono delle leggi però sono di tipo statistico quindi non sono così riduttive in ambito umano quando ci sono delle singolarità ci sono i corvi bianchi oggi diremmo su questo ne torniamo poi su è diventato di moda questa cosa non parlare di corvi bianchi ma di cigno nero però è un po' la stessa cosa certo quindi Popper ha interpretato questa idea il valore fondamentale costruttivo per la scienza dell'anomalia lui diceva della falsificazione cioè che le nostre teorie raggiungono diciamo il momento più positivo non quando sono confermate ma quando sono falsificate quindi in questo senso interpreta molto bene quello che è avvenuto nel novecento detto questo qual è il problema di Popper no? che lui facendo vedere questo quadro molto interessante diventa lui stesso normativo ok quindi ignora che nella pratica degli scienziati ma anche nella pratica degli umani non è che lo stare attaccato alle proprie teorie ai propri modelli nonostante che l'esperienza ti dica che sono falsificati è sbagliato perché certe volte noi per andare avanti nel nostro discorso dobbiamo stare attaccati ai modelli che funzionano e per il momento ignorare le anomalie questo è un altro atteggiamento razionale anche questo che è stato messo in evidenza dai grandi altri epistemologi che hanno dialogato con Popper come Thomas Kuhn o Lakatos che fanno vedere che se è razionale la falsificazione è anche razionale la tenacia di difesa fino ad un certo punto adesso che siamo a qualche decennio di distanza da questo dibattito non diciamo banalmente aveva ragione tutti quanti ma sottolineiamo che c'è una complementarità fra i due approcci cioè in realtà se noi andiamo a vedere nella storia dei saperi della scienza ma anche degli atteggiamenti umani sono validi tutti questi aspetti a seconda della condizione storica certe volte è fondamentale diciamo gettarsi appeso nelle anomalie quindi falsificare tutto quello che su cui ci si basava altre volte ha senso restare fedele al noto e vedere se si riesce a trattare con il noto qualcosa che al momento è perturbante allora quello che abbiamo scoperto rispetto a Popperm ma anche a certi dibattiti è che la normatività non funziona perché nella storia dei saperi umani in particolare dell'impresa scientifica avviene ci sono tantissime strategie che possono avere successo o non aver successo la patologia probabilmente si ha quando ci si attacca soltanto a uno dei due corni cioè se si vuole dissolvere tutto quanto no oppure si vuole conservare tutto quanto al di là di una certa soglia adesso qui sto parlando non più in termini rigidamente epistemologici e filosofici ma proprio come atteggiamenti cognitivi umani no perché noi diciamo che come atteggiamenti cognitivi umani quindi nel macromondo diciamo dell'impresa scientifica ma anche nel micromondo della nostra vita quotidiana abbiamo bisogno di certezza giustamente quindi abbiamo bisogno che i nostri quadri cognitivi siano sufficientemente saldi per non rinunciare ai nostri quadri cognitivi per ogni elemento perturbante che viene dal mondo perché sia nel micromondo che nel macromondo un micromondo dell'azione macromondo delle teorie scientifiche ogni giorno praticamente ci sono elementi perturbanti e ovviamente non è che il singolo elemento perturbante ci deve far rinunciare a un percorso di successo nello stesso tempo stare troppo attaccati al percorso di successo può essere molto pericoloso perché esiste un punto in cui le anomalie invece che essere qualcosa di diventare come dire di mettere lì alla periferia di controllare possono essere l'elemento decisivo per risolvere anche delle crisi presenti e ripeto non sono solo crisi della conoscenza ma sono proprio anche crisi dei percorsi di vita individuali e collettivi quindi quello che abbiamo appreso da tutta la scienza la filosofia del ventesimo secolo è che certe contrapposizioni diciamo tra la ricerca della certezza e la pratica diciamo creativa e se vogliamo un po' caotica della novità e del carattere rivoluzionario c'è una profonda complementarità qual è il grande problema che non ci sono ricette per decidere quando mettere in atto una strategia e quando mettere in atto un'altra strategia o meglio queste non è che non ci siano dei segnali o delle indicazioni ma queste sono contestuali ai singoli eventi e qui dobbiamo ricordare un altro autore poi ti ripasso la parola di cui celebriamo i cent'anni dalla nascita adesso Paul Feieraden il quale praticamente è stato come dire è stato molto amato diciamo da un filone diciamo New Age e Hippie ma non è stato compreso nella sua affermazione di anarchismo metodologico perché Feierabend facendo la critica tutta l'epistemologia del XX secolo ha usato un'espressione molto ecastica tutto va bene è stato detto no caos anarchismo metodologico una posizione dadaista invece una posizione molto profonda perché dice nella storia della scienza diciamo quello che studiava lui e nella pratica anche quotidiana e questo diciamo noi ci sono tantissime storie in cui va bene restare saldi contro le falsificazioni tantissime altre in cui la falsificazione è decisiva e non lo possiamo decidere all'esterno ma dobbiamo soltanto entrare nel contesto storico e capire com'era la situazione l'esempio classico qual è che su certe cose Galileo aveva torta aveva ragione gli aristotelici perché la sua fisica era ancora qualcosa di tentativo qualcosa di nuovo che non sempre dava dei risultati netti però il fatto che Galileo sia rimasto saldo su certi fondamenti un pochino precari poi ha condotto il percorso di Newton e vabbè di esempi del genere nella storia della scienza ce ne sono tantissime per cui tutto va bene vuol dire una cosa molto importante rispetto alle idee di conoscenza di verità che secondo me è quello in cui sfocia diciamo quello che si chiama il pensiero della complessità o le scienze dei sistemi complessi cioè che la verità è contestuale cioè noi non possiamo usare il termine verità se non relativamente a un certo spazio a un certo tempo a un certo osservatore a certi bisogni e quindi le strategie del sapere sono strettamente legate alle condizioni individuali e alle condizioni collettive e ai contesti sociali e politici che ti danno gli obiettivi ma anche allo stile individuale che di volta in volta privilegia certe strategie che possono aver successo o insuccesso e questo è un punto fondamentale perché viene spesso confuso questa visione dinamica della verità del processo conoscitivo con il relativismo nichilista no anarchico del vale tutto vale niente invece il punto è sempre possiamo usare un collegamento con il concetto anche di orlo del caos no cioè di questo io piace usare questa questo modo di dire in inglese flow with complexity no cioè capacità di fluire con la complessità tra due estremi uno di una necessità di certezza di punti fermi altrimenti non riusciamo ad andare da nessuna parte e nel contempo all'estremo opposto di questo continuum c'è la necessità invece di modificare di cambiare le cose ovvio che di volta in volta il bilanciamento tra questi due estremi è contestuale è relativo come stai dicendo tu quindi da una filosofia della verità omeostatica a una omeoretica cioè dove la ricerca di un bilanciamento tra questi due estremi coevolve con gli stati del sapere del sistema di volta in volta non c'è un framework omeostatico definitivo una volta e per tutte tu come dire a priori ti regoli su questo no e questo cosa ci porta ci porta inevitabilmente al fatto che certo che ci vogliono delle conoscenze delle prati delle teorie dei punti di riferimento ma questa qua è anche come dire un'arte quindi ha a che fare anche con la capacità dell'individuo e dei gruppi di incarnare questa capacità di navigare a vista usando la metafora marittima no e quindi mi vengono in mente anche tutto il discorso dell'equilibrio tra dei modelli e l'importanza poi che le persone incarnino questa capacità di sapere quando a un certo punto è più importante tenere il timone verso la certezza e assumersi il rischio di quando invece ogni tanto è bene ribilanciarlo ma in divenire non in base a un punto fermo di volta in volta che sul versante invece del mettere in discussione evitando il rischio della certezza di congelare e sclerotizzare o quando siamo troppo sbilanciati su il mettere in discussione su come dire l'eccessiva frammentazione come facendo un'analogia psicopatologica tra la rigidità l'estremo della rigidità di certe nevrosi e l'eccesso di caoticità della psicosi ecco tutto questo impianto a livello collettivo dei grandi numeri è difficile da sostenere cioè è un qualche cosa che riesce a comprendere e incarnare una minoranza per ora dell'umanità perché è molto sfidante rispetto alla nostra cultura al nostro modo di funzionare ordinario cosa ne pensi? beh adesso questo è un tema che dovremmo approfondire però per chiudere questo discorso io dico che adesso che si ha nel ventunesimo secolo se noi leggiamo la sfida che viene data chiaramente la dobbiamo filtrare noi naturalmente ma che viene data dagli sviluppi scientifici e filosofici del ventesimo secolo è una sfida data data da tutti questi casi che possiamo studiare analizzare eccetera eccetera anche all'esistenza individuale dei gruppi e dei gruppi come hai detto te cioè è una sfida che ci dice guardate che non soltanto l'identità umana dell'individuo o dei gruppi è mutevole cangiante eccetera eccetera ma in un certo senso l'individuo o il gruppo poi sono livelli diversi parliamo dell'individuo però si può parlare anche dell'identità di un singolo gruppo non solo è dinamica mutevole ma certe volte per restare se stessi bisogna tradirsi che cosa voglio dire e in qualche modo certe strategie che ti hanno fatto vincere e che sono diventate quindi parte proprio della tua quotidianità e della tua routine possono diventare pericolose e quindi ci deve essere il momento in cui abbandoni qualcosa che è stata parte della tua routine e della tua quotidianità per andare avanti nel tuo percorso adesso io non vorrei toccare un po' troppo tematiche proprio di ordine psicoanalitico però quando noi parliamo dell'importanza del processo di individuazione di una persona vediamo che la persona deve riuscire a fare i conti con una serie di dinamiche psichiche sempre più ampie e anche con dinamiche psichiche più perturbanti a un certo punto la maturità e l'esperienza ti consentono di integrare qualcosa che all'inizio veniva considerato come un ostacolo quindi in qualche modo il tradire se stessi quello che dice Feyerabend tutto va bene per cui certe volte bisogna anche operare al di là della propria ideologia o della propria immagine pubblica fai vedere che sei rivoluzionario e poi fai vedere che sei dogmatico anche l'individuo è in queste condizioni sono elementi di flessibilità senza altro ma che secondo me portano anche sul lungo periodo a una migliore maturità psichica ecco probabilmente questa è una tese poi ci torneremo su la nostra cultura in questa fase cioè rispetto alla modernità è troppo comodo dire postmoderno per cui chiudiamo il capitolo della modernità è troppo comodo anche dire no stiamo fedeli a certe patologie della modernità quello che dici te siamo in una tarda modernità no dobbiamo fare un percorso di consapevolezza che è sicuramente minoritario però abbiamo gli elementi per filtrare il bagaglio storico che abbiamo per reinterpretarlo certe volte per assumerlo in continuità e certe volte invece per rigettarlo cioè un'operazione molto selettiva però noi abbiamo oggi la cosa paradossale che abbiamo molta consapevolezza di queste cose a livello culturale poi la domanda che ripeto non abbiamo la pretesa con questi video di risolvere ma di porre sì è perché questa grande consapevolezza di elite poi non diventa anche un modello per le azioni umane questa è la domanda ci torneremo su la civiltà del nostro tempo che è giusto bellissimo il nostro percorso molto limitato però la poniamo anche dal nostro punto di vista quindi direi che abbiamo posto anche oggi tanti elementi che ci aiutano a comporre questo mosaico che ci situa oggi nel mondo contemporaneo bene allora grazie Gianluca e ci vediamo al prossimo video in cui proseguiamo con il nostro dialogo grazie grazie a tutti